Musica Rieccoci all'appuntamento con il meteo, bel tempo e sole splendente affoggia in tutta la capitanata Tornano a salire le temperature, 36 gradi registrati della massima affoggia città, 21 per la minima Con l'allerta AFA che torna ad essere presente a causa dell'anticiclone africano Che ha iniziato una nuova espansione verso l'Italia Tempo stabile ed assolato anche nella giornata di domani Mi fermo qui, per il momento è tutto, vi ringrazio per l'attenzione e la linea torna alla rete